vi dirò sono quasi disgustato ho quasi il disgusto per quello che abbiamo visto stasera d'accordo, è una cosa che la finale sarà Real Madrid contro Liverpool la finale sarà Real Madrid contro Liverpool voglio essere onesto con voi, perché voglio essere il più onesto possibile quando ho visto il Real sbagliato tutti quei gol, emblematico magari anche quello a inizio secondo tempo con Vinicius che a porta vuota la butta fuori, proprio sul calcio d'inizio ho proprio pensato ora il Manchester City fa un gol subito e real va a casa e infatti appena Guardiola fa due cambi Zinchenko e Gundogan che toccano quel pallone per via centrali per Bernardo Silva e Bernardo Silva vede con il terzo occhio, quello dietro la testa l'inserimento di Mares che in sacca fa l'1-0 ho detto ok copione prevedibile è andata così quando poi Grealish a due minuti dalla fine mette in mezzo quel pallone che rimbalza in qualche modo strano su Foden a porta vuota e Foden stesso la butta fuori testimoni dei miei amici mi giro e gli dico ragazzi passa Real Madrid o mi hanno detto ma va là ma figurati gli ho detto ragazzi passa il Real Madrid perché quanto cazzo sono segnali il Real Madrid che aveva attaccato tutto il tempo non era mai riuscito a trovare il gol e guarda caso lo fanno quegli altri quegli altri che non riescono a chiudere la partita o il Real Madrid ragazzi in questa edizione della Champions per antonomasia per definizione è la squadra la squadra che rimane sempre nella partita e che sfrutta gli episodi soprattutto nel finale perché ne aveva buttati via troppi io penso che sia stupido parlare di DNA delle squadre io credo che sia una cosa stupida parlare del DNA delle squadre perché come fa a esistere un DNA di una squadra se la squadra è composta da uomini e questi uomini magari cambiano com'è possibile che il Real Madrid che mi ha vinto tre Champions League di fila con Zidane dove giocava Marcello dove c'era Sergio Ramos dove c'era Cristiano Ronaldo possa avere lo stesso DNA di quello di Ancelotti della decima di qualche anno fa che c'era di Maria c'era che dire sono squadre diverse sono giocatori diversi sono passati degli anni nel frattempo della decima cosa sarà stato? 2014-2015 passati sette anni quasi una decade nel calcio nello sport come può esistere il DNA? poi però mi rendo conto che il Real Madrid cosa va a giocare la diciassettesima diciannovesima finale della sua storia ne ha vinte tredici allora mi viene da dire che vincere tredici Champions League non avviene per caso e allora qualcosa ci deve essere un connubio che unisce questa competizione dannata maledetta la Champions League e questa squadra perché se no non si spiega se devo usare semplicemente la logica devo fare un collegamento logico un ragionamento logico che mi va a unire quello che ho visto stasera quello che ho visto nel percorso europeo del Real di quest'anno quello che ho visto in generale nel Real Madrid la logica la prendo e la butto via ragazzi non può esistere non c'è la logica in tutto ciò poi addirittura esagero per quanto mi riguarda in generale il Manchester City è decisamente più forte di questo Real Madrid ma decisamente più forte per quanto stasera la partita comunque l'abbiamo fatta in Real insomma il City è più forte eppure in finale ci va in Real io non riesco a spiegarvi che cosa abbiamo visto oggi è l'ennesima dimostrazione che nella Champions puoi fare tutti i conti che vuoi puoi dare continuità a quello che ti pare puoi veramente pensare che a un certo punto sia finito ma non è finita mai ma non è finita mai addirittura nella mia anticamera del cervello a un certo punto è passato pure il pensiero del adesso magari fa gol il City è l'ultimo secondo che ne so calcio d'angolo sale Ederson fa gol Ederson perché avevamo già visto tutto tra andate e ritorno io credo che questa passerà davvero la storia come la semifinale di Champions forse più bella in generale ma è giocata adesso vado a memoria ma di quelle che ho visto io sicuramente poi magari Coppa dei Campioni o prima quando già era Champions io magari non l'ho vista prima del 2006 qualcosa di più bello c'è stato non lo so non ne ho idea anzi chiedo a voi così a caldo faccio fatica a ricordarmi una partita che finisce 6 a 5 tra l'altro prima partita nella storia anche qua forse mi sbaglio non lo so dico cose a caso poi correggetemi nei commenti che è bello anche per questo è la prima che grazie alla nuova regola comunque si va a supplementare perché avendone fatti tre la real doveva passare direttamente in real e comunque niente ne fa un altro poco importa se a un minuto dalla fine il Madrid era sotto di uno e stava di due passava al City era sotto di due doveva farne due Rodrigo Rodrigo perché se da una parte guardiò la zecca e i cambi dall'altra Ancelotti Carletto toglie cross butta dentro Rodrigo che te ne fa due poi Benzema è immortale gol l'assist procura il calcio di rigore lo calcia ci vogliono due cocones grossi così grossi così pesanti grossi così io non lo so che cosa abbiamo appena ma poi banalmente ma io penso anche alla storia di Carletto penso alla storia di Ancelotti che negli ultimi anni era venuto a allenare in Italia al Napoli e quante volte l'abbiamo sentito vabbè Ancelotti è nato rifinito basta non è più l'Ancelotti che conoscevamo esonerato dal Napoli a stagioni in corso va all'Everton e poi via dall'Everton va al Real io lo ammetto quando questo è stato visto Real Madrid tesserare Ancelotti ho proprio pensato ma di cosa stiamo parlando ma come Ancelotti e guarda qua finale di Champions League magari pure la vince perché lo ripeto è stupido parlare di Dinea perché secondo me è stupido però allora come me lo spiegate come me lo spiegate stasera io guardavo Vinicius eravamo sul divano con i miei amici non lo so abbiamo bevuto due birre a testa una roba del genere e a un certo punto quando Vinicius è uscito che ha detto io cambio no no un mio amico ha detto ma figa sono stanco io a guardarlo che sono stato sul divano a bere della birra per due ore e lui che ha fatto non lo so io credo 30 km di scatti vuole rimanere in capo ma com'è possibile ragazzi ma qui stiamo andando veramente oltre ogni limite mi dispiace un po' non vedere da una parte la finale di Champions tutta inglese la terza finale inglese sarebbe stata negli ultimi 5 anni la sfida eterna Clopo Guardiola perché mi dispiace sarebbe stato interessante però dopo una serata del genere signori ma il Real Madrid bisogna veramente dirgli bravi e mi dispiace ancora di più perché ve l'avevo detto stavo cercando i biglietti per andare a Madrid due minuti dalla fine ho detto oh meno vai che non ci sono andato a Madrid avrei speso 2000 euro per un viaggio di due giorni per vedere un 1-0 scarso del Manchester City boom non avessi mai detto altri 3 gol del Real passa a loro che cazzo è la Champions League ma quando io vi dico che vorrei un playoff della Serie A a proposito di playoff complimenti alla Juve Under 23 che ho letto che ha vinto contro la Provercelli e quindi passa al turno successivo proverà ad andare in Serie B però ovviamente per una serata del genere ma quando vi dico che io presterei tanto il playoff in Serie A ma voi immaginatevi la Serie A ragazzi guardi questa roba guardi il calcio inglese e dici non è la stessa cosa è inutile prenderci in giro è inutile che stiamo qui ma perché sono cose diverse l'emozione del cazzo se non mi muovo adesso sono eliminato non la provi in un campionato a punti è inutile che ci giriamo intorno ma quanto sarebbe bello arrivare alla fine dell'anno che le prime 8 10 12 fatele voi il numero quello che volete 8 ci sta 8 si scontrano così quarti semifinale finale perché poi tutti vanno a dare quel qualcosa in più tutti provano a superare i loro rimini partita secca ragazzi partita secca è una cosa differente è partita andata e ritorno pure rispetto a se vinco prendo tre punti se pareggio uno se perdo zero allora forse posso anche pareggiarla perché gli altri in campionato la giornata più difficile sono avanti di punti e sono cose differenti poi io io che tifo questa squadra qui io tifo per la juventus io sono nato che il destino mi ha portato la juventus benissimo perché abbiamo visto nove anni gli scudenti consecutivi io sono partito dalla serie b a tifare juve quindi l'accusa famosa però tu tifi juve perché vinci non perché sei di torino no io sono partito dalla serie b primo trofeo mio della juve la serie b però io 30 anni a luglio non ho mai visto la juve vincere la champions e io penso ma pensa che i tifosi del real madrid ma pensa questi qua che loro per loro vincere la champions è come per me aprire questa cosa di chevingum mettermi in bocca un chevingum e masticarmelo perché è un'azione talmente comune ormai nella loro vita nella loro esistenza che si festeggiano perché diavolo è la finale di champions league è sempre bello ma negli ultimi non mi ricordo abbiamo detto prima no 7-8 anni ne hanno vinto 3 con Zidane una con Ancelotti ne vanno a fare un'altra con Ancelotti cos'è negli ultimi 8 anni ne hanno fatte 5 loro cioè sto contando bene ma di cosa stiamo parlando ma di cosa stiamo parlando ma cosa vuol dire com'è possibile questa cosa come fa questa squadra sempre una un incro ma cosa vuol dire cosa vuol dire chiudo il video così con questa domanda che cosa mi rappresenta questa storia cosa vuol dire cosa vuol dire